Sì, un progetto che ha anche una doppia valenza, quello di sostenere l'associazione e quello di fare sensibilizzazione merita un tema che, come diceva prima la vicepresidente, è odioso. Sì, diciamo che con il sostegno ai progetti che come fondazione per cui si scioglie facciamo attraverso il crowdfunding tendiamo sicuramente a dare importanza a quelle che sono le risorse per sostenere i progetti ma per noi le risorse non sono il fine ultimo ma è importantissimo che ci siano momenti di condivisione, di sensibilizzazione attorno ai temi dei progetti, dei cinque progetti che da febbraio sosteniamo. Sicuramente il tema della violenza di genere, della violenza verso le donne è un tema molto importante per noi che purtroppo colpisce tante donne, colpisce donne anche in forme diverse, con violenza fisica ma anche psicologica e quindi pensiamo che ci sia bisogno di far di più e quindi noi ci siamo a sostegno del centro Donne Insieme Val d'Elsa e ecco ci siamo perché riteniamo che per le nostre cittadinanze sia importante che si parli di questo e ci auguriamo anche che un domani i numeri siano migliori in riferimento alla violenza di genere. Grazie Grazie Grazie